benvenuti all'angolo di pagine d'autore una rubrica per entrare nel mondo dei libri penna blu di lorenzo marone un antico guerriero io a dire il vero non ho mai riflettuto più di tanto sulla libertà ero felice nella mia voliera extra lusso a due piani dotata di carrello per essere spostata all'esterno nel periodo estivo sfondo esotico sfavillante applicato sul retro mangiatoia con tre ciotole scaletta di legno naturale a sette gradini e altalena ottonata cibo e acqua sempre freschi cosa desiderare di più don giro paglietta mi trattava da re e finché c'è stato lui le cose andavano una meraviglia totò tu si troppo bella ripeteva sempre mi voleva bene e io ne volevo a lui ovvio anche se a esser sinceri non è che avesse un carattere facile spesso si arrabbiava per un non nulla e urlava così forte che ero costretto a ripararmi la testa sotto l'ala era un tipo nervoso don ciro soprattutto con gli estranei che lo venivano spesso a trovare con la moglie e figli invece era sempre gentile lorenzo marone tra gli scrittori italiani più importanti ha pubblicato tra gli altri la tentazione di essere felici che ha avuto numerose edizioni in italia e ha ispirato il film la tenerezza i suoi libri sono stati tradotti in 18 paesi e ha vinto numerosi premi tra cui il premio Elsa Morante il premio Stresa e selezione bancarella il premio Giancarlo Siani ha una rubrica settimanale su Repubblica Napoli e collabora con tutto libri dal 2018 il direttore artistico della fiera del libro ricomincio dai libri i suoi romanzi sono tutti da leggere seguo in modo particolare questo scrittore ha avuto modo di incontrarlo e di parlare dei suoi libri e di sicuro ve ne parlerò ancora ma oggi di lorenzo marone vi consiglio penna blu edito da marotta e caffiero è un racconto ironico una piccola storia buffa ed è la storia di un pappagallo amazzonico di grande valore di grande pregio un'ara blu incapace di volare di nome totò che arriva a Napoli nella casa di un boss della camorra il temuto e rispettato Don Ciro Paglietta leggiamo la storia attraverso lo sguardo di di totò e quindi entriamo nella casa e nella vita di questa famiglia malavitosa una casa sfarzosa ricca di statue molto appariscente e totò ascolta ripete tutto e si appassiona alle piccole cose come al gioco del biliardo o alle canzoni napoletane praticamente a quello che vede svolgersi in quella casa Don Ciro da parte sua nutre tante attenzioni tanto dedica tanto affetto a totò cosa che invece non succede non accade da parte del resto della famiglia così conosciamo Ninuccia la moglie ossessionata dalla pulizia e dall'aspetto fisico il figlio Gaetanino che dice sempre parolacce la figlia chantada smorfiosa e capricciosa il povero totò ne passerà davvero di tutti i colori a nulla serviranno le sue suppliche le preghiere alla Madonna a Padre Pio e ai defunti Paglietta si può dire che totò vive in un vero e proprio paradiso perché la sua gabbia è dotata di tutti i comfort si sente sicuro si sente protetto ma nello stesso tempo è prigioniero non è libero e suo malgrado assiste anche ad episodi molto cruenti assiste alle riunioni di Don Ciro con gli altri camorristi assimila il pensiero del boss tanto da sentirsi parte integrante della famiglia perché come dice Don Ciro la famiglia è tutto Lorenzo Marone con il suo stile diretto divertente e critico mette in risalto i paradossi che ci sono in questa famiglia camorristica che conduce una vita apparentemente normale ma nello stesso tempo è spietata e crudele nelle nelle sue azioni allora la vita comoda ha un prezzo ha il suo prezzo e anche noi preferiamo la comodità i compromessi la protezione potremmo accettare tutto questo in cambio della nostra libertà ma qual è la strada giusta per la libertà a volte le ali sono necessarie per spiccare il volo e allora usiamole per essere liberi di volare ma nella direzione giusta buona lettura con penna blu piccola storia buffa di Lorenzo Marone se volete vi aspetto sul mio blog www.paginedautore.it oppure mi trovate sui canali social facebook e instagram buona lettura ciao 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 ciao